Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Macblog Perché vedete il mio DevCenter, il mio developer? Allora, per premessa siamo insieme ad Marzia80 Lei fa il MarziaBlog MarziaBlog con la B maiuscola, spazio trattino e il giorno che volete Bene, ma perché vi voglio far vedere il mio DevCenter? Perché voglio dimostrarvi quanto, grazie a buone applicazioni sviluppate bene E con qualcosa di più particolare potete riuscire a guadagnare soldi con Developer Program Grazie a queste nuove, allora vi faccio vedere subito Ieri infatti, solamente ieri, ho venduto 48 unità, sarebbero 24 euro Di iBlackboard per iPad iBlackboard per iPad è la mia nuova versione di iBlackboard ridimensionata per iPad Ma non solo, cosa ha che non tutte le altre app hanno? Ha in più che potete scegliere, ovviamente oltre al colore del vostro gesso, anche la dimensione E poi, vabbè, oltre alla stupenda grafica che sarà rilasciata con la nuova versione Proprio più vicina al reale È davvero molto utile anche per scrivere degli appunti Grazie al display da 10 pollici dell'iPad Vi faccio vedere Anche grazie al libro che sto leggendo Fare business con le applicazioni per iPhone Ma soprattutto per la mia capacità di creare questa applicazione Sono riuscito a vendere, solamente ieri, il 16 aprile Vedete? 47 unità di iBlackboard per iPad Come potete vedere Prima, senza questa applicazione, vendevo massimo 6 applicazioni Invece, grazie a questa applicazione Vendevo 6 applicazioni Grazie invece a questa applicazione per iPad Dove ho inserito molte più cose Come potete vedere Sono arrivato a 48 vendite Come potete vedere Sono 21 dagli USA 6 dal Messico 4 dalla Gran Bretagna 3 dalla Australia 3 dalla Germania 2 dall'Italia 1 dalla Nuova Zelanda 1 dal Brasilia 1 dalla Francia E 1 dalla Russia Come potete vedere Sono state tutte rilasciate al 100% Quindi vuol dire che mi sono stati riconosciuti Il 100% dei soldi Quindi ragazzi Developer Program e sviluppare applicazioni per iPhone Può essere davvero redditizio Se sapete svilupparvi in buon piano marketing E una buona pubblicità Quindi ragazzi Se a voi può interessare il Developer Program Iscrivetevi Aspettate un po' Create buone applicazioni E questi saranno i risultati Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi